Michelle, come mai questo nome? Ma è un nome particolare perché è un nome francese, vuol dire Michele, è il mio vero nome, perché mia nonna si chiamava Michele ma mia madre che è francese ha voluto lasciare tracce della nostra provenienza. Adesso quindi posso dichiararmi metà francese, metà italiano, però fra poco anche completamente americano. E qui stasera con tua moglie, voi da quanto state insieme? Ma siamo sposati da due anni e mezzo, però siamo insieme da sei ormai, quasi sei anni, sono vecchietti ormai. Vecchietti che esagerati, ma com'è questo matrimonio? Funziona? Sembra andare alla grande, vi vedo felicissimi. Devo dire, attualmente è la cosa di cui vado più orgoglioso, nel senso che magari il lavoro del mio artista va e viene, ci sono momenti in cui sei più felice, momenti in cui sei più appagato. Invece il rapporto di coppia, quando si ha la fortuna di averlo così incredibile, credo che sia la vera soddisfazione della vita. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti perché appunto io ero la direttrice artistica di un musical, del quale Michelle era protagonista. Quindi ero venuta in Italia a fare la direzione, la regia del musical dei Promessi Sposi, Michelle era il rezzo e poi è andato avanti da lì. Sentite, invece figli? Figli, volentieri, iniziamo con uno. Andiamo al singolare, poi sicuramente. Sì, sì, quando è il momento giusto saremo veramente felicissimi. Ciao, Gossip News! Un bacio a tutti a Gossip Blues! Ciao!